L'amministrazione comunale di Ponte Nossa intende sistemare a parcheggio il piazzale nei pressi del cimitero. A che punto è l'iter? Avremmo voluto perché dopo aver steso uno studio di fattibilità e quasi un progetto preliminare, siccome stiamo parlando di una strada provinciale e anche in questo caso, essendo comunque servizio della comunità di Ponte Nossa, in particolare appunto servizio dell'accesso al cimitero, pensavamo di farlo autonomamente e di chiedere l'autorizzazione alla provincia a poter intervenire su un pezzo comunque relativo alla viabilità provinciale che non sarebbe di competenza del comune. È stata un po' una mara sorpresa la risposta che ci è arrivata dalla viabilità perché su quel pezzo che per chi abita in zona, credo abbiano ben presente, di sterrato, la provincia chiede 25 mila euro per l'acquisto tenuto conto che sarebbe un tratto, un percorso attualmente di proprietà dell'amministrazione provinciale. Io spero di poter chiarire questo equivoco, capisco le difficoltà economiche che attanagliano tutti gli enti locali, in prismi delle province, però non mi sembra opportuno appunto che un comune che decide di farsi carico di un intervento che tutto sommato incide sulla proprietà e quindi la responsabilità di un altro, si trovi addirittura penalizzato per questa iniziativa. Probabilmente la difficoltà economica in cui versano in questo momento e versa l'amministrazione provinciale ha fatto perdere un po' l'idea e la proporzione delle richieste che potevano essere legittimamente o valutate. Mi ha un po' sorpreso e mi auguro anche in questo caso che con un dialogo aperto e un ragionamento tecnico di opportunità si considere anche il fatto che il Comune di Ponte Nossa anche in questo caso avrebbe deciso autonomamente a spese sue di risolvere un problema che tutto sommato è lì da decenni su una strada provinciale rispetto alla quale a parte la realizzazione altre rifiniture non sono mai state poi portate a termine.